Siamo dentro Ciao Salerno, quartiere ufficiale, signor Andrea Vingarelli di Sena Vintus Vindella, allenatore, signor Bolli Siamo aspettando, gelati i lavori Siamo aspettando, gelati i lavori Attaccheremo nel secondo tempo Siamo sotto la ferrovia Vai di Gennaro Noi vogliamo questa vittoria 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 Tu ragazzi ha bisogno di noi! Tu ragazzi ha bisogno di noi! Grazie ragazzi! Sì forte dai! Scop! 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 Venga! Un grande gol! Vai! Cuore! Su angolo! Alla fine! Molto bene! Ragazzi fine primo tempo! vantaggio per uno a zero sono stati tutti buoni frangenti di gioco abbiamo fatto un ottimo gioco abbiamo trovato un gol concretezza sono anche senza voce andiamo avanti così e potrà bastare forse ma di lungo ragazzi è finita aiuto è incredibile 2 a 1 ottenuta l'ottantanunesimo e vai sono felice mi ha dato un po via di bocce ma meno male abbiamo vinto 2 a 1 quando ci sono io portiamo sempre fortuna da tutti si è vinto alla prossima un saluto al vostro freddo ciao ragazzi ciao 2 a 1 ciao 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 ciao